Bambolina Bebé Basta piangere Ciao Io sono Sidney Peppa Ma perché piange Emily Peppa Peppa Ciao Sidney Guarda che cosa ha combinato Emily Sono Peppino Emily è piccola voleva semplicemente giocare con te Ecco vedi vuole solo buttare le cose per terra Ma lei non lo fa per dispetto è semplicemente che non capisce ancora e per lei ci vogliono altri giocattoli Vieni Emily Adesso ti faccio vedere con che cosa giocano i bambini piccoli guarda che bella panna si spingi il bottone comincia a suonare non capisco non capisco non capisco non capisco non capisco ecco ecco Emily guarda Emily ti è venuta a trovare una mucchetta e adesso è arrivato l'orsetto il cagnolino il gattino e guarda come altro ci si può giocare si possono mettere in forma di piramide in ordine decrescente e adesso Emily prova da sola prima prendiamo il pezzo più grande quale tra questi è il pezzo più grande esatto la mucca è la più grande ma che brava Emily e qual è il prossimo pezzo? ma che brava Emily hai montato la piramide tutta da sola e che altri giochi può fare Emily? beh per esempio con la piscina con le palline a te piace giocarci ma dove sono le palline? le palline? mi costa un camion con le palline? con le palline? con le palline? con le palline? prendi Emily e adesso Peppa mentre la nostra Emily gioca con le palline possiamo tranquillamente bere il tè per Peppina e per me no 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 Emily i bimbi piccoli non bevono il tè ma solo il latte oh benissimo di niente Peppa con i bambini piccoli può essere molto molto pesante e tu? che giochi fai con i tuoi giocattoli? mi raccomando iscriviti al canale per non perderti i prossimi giochi di Peppa e Emily ciao